Tutto pronto per la tappa aquilana del Giro d'Italia. La città si vestirà di rosa, palazzi e monumenti saranno un inno alla carovana d'Italia. Le vetrine e delle attività commerciali si vestiranno a tema. Sarà un intero mese di maggio dedicato allo sport, ma anche al buon cibo, quello dello sito food di qualità che per la quarta volta avvia il suo tour internazionale proprio dal capoluogo abruzzese. Il comitato organizzatore del Giro d'Italia all'Aquila ha illustrato questa mattina i dettagli definitivi, o quasi, della settima tappa del Giro. Una tappa tecnicamente impegnativa per gli atleti molto attesa dall'intera città. Si parte intanto sabato 4 maggio con un importante convegno sulla sicurezza stradale. Poi il 5, la stracittadina organizzata dall'Atletica Abruzzo. La carovana porterà all'Aquila 3.000 persone più centinaia di collaboratori dell'Indotto. L'evento Clou sarà la Gran Fondo dell'Aquila due giorni dopo, il 19 maggio. Ma soprattutto perché avremo gli occhi del mondo, è il caso di dire, sulla nostra città. E quindi è un'opportunità unica che dovremo essere bravi a sfruttare in tutti i sensi. Per la prima volta si è strutturato un comitato tappa che ha lavorato da tanto tempo. Abbiamo costruito una serie di eventi che dal 4 ci accompagneranno fino alla data del 17 maggio. e oltre, perché il 19 poi ci sarà la Gran Fondo, a chiusura di tutto il programma. Il finale è stato disegnato in maniera interessante. Abbiamo avuto anche conferma di questo proprio dai professionisti che l'hanno ispezionato e visionato. E secondo me qualcuno già sta preparando qualche colpo a sorpresa per il finale della tappa dell'Aquila. Abbiamo voluto creare tutta questa serie di eventi collaterali proprio per far sì che non fosse circoscritto solo ad un giorno, anche importante. E proprio per far sì che potesse essere veicolato meglio l'immagine della nostra bellissima città e quindi farne un'occasione per una promozione importante. Clou è proprio la Gran Fondo, due giorni dopo l'arrivo della tappa, il 19, domenica 19, avremo la quarta edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila, organizzata dall'SD Ciclocral, di cui sono stato presidente sino a poche settimane fa. E speriamo di portare tantissimi atleti all'Aquila, atleti, famiglie, e speriamo di portare tantissimi atleti all'Aquila.